Che problema hai? Qualcuno ci sta tendendo una trappola Di certo non possiamo fidarci del signore dei giochi Tu faresti meglio ad evitare i miei pugni Bravo Robin, sistema quello spilungone Pronto a brillare? Cos'è, uno scherzo? Lo pensi adesso, ma fra qualche mese avrai ancora i brillantini in casa e capirai? Quanto sia terribile! Il tuo alter ego